Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Alex Deminaur dopo la sconfitta contro Yannick Sinner si è detto dispiaciuto e pentito per il gesto di stizza al termine della gara, quando ha spaccato la sua racchetta per la frustrazione sbattendola al suolo. È stata un gesto di rabbia preso distinto, all'improvviso e di cui ovviamente mi pento. Mi scuso per la mia reazione. Deminaur ha perso nove partite contro Sinner. L'azzurro è un vero incubo per il giocatore australiano, che ha vinto solo un set in tutti i match giocati contro di lui. Vincere contro di lui è come cercare di risolvere un puzzle, in pochi sono riusciti a risolverlo. Questo è probabilmente il modo migliore in cui lo descriverei. Lui sta giocando con molta sicurezza. È stata una partita dura e ho avuto delle opportunità. Eh sì, non ha vinto un milione di partite quest'anno senza motivo. C'è una ragione per questo. La velocità della palla e la sua costanza gli permettono di mantenere la concentrazione per tutta la partita. Quindi, se vuoi scendere in campo e batterlo, devi giocare il tuo miglior tennis. Soprattutto nei punti cruciali, devi fare un passo avanti. Lui esce, è solido, gioca bene e nei momenti chiave fa quel passo avanti. È un giocatore molto duro da affrontare quest'anno.